Alla fine, se anche hai una bottiglia d'acqua sporca, lurida e maledorante in mezzo al deserto, probabilmente la gente la apre, la stappa e se la beve lo stesso. Stai ascoltando Crea il tuo corso, il primo programma in Italia che ti spiega in modo semplice e senza fronzoli gli strumenti, le strategie e le azioni necessarie per realizzare e vendere il tuo primo corso online. E ora la parola al padrone di casa, Davide Rampoldi. Oggi siamo qua con Jessica Redeghieri, giusto? Sì. Da dove di preciso? Provincia di Reggio Emilia. Infatti sentivo che l'accento era più o meno delle nostre zone, cioè non nostre perché io in realtà sono di Como. Sì. Però adesso concorsi.it, sono qua in zona Rimini quindi mi sembrava, non proprio romagnolo però insomma. Esatto, esatto. La zona è più o meno quella, la madre e patria è quella. No, allora siamo qua perché ti ho scoperto recentemente su YouTube perché stavo andando a fare delle ricerche per la creazione di vari corsi, io appunto mi occupo all'interno proprio della creazione dei corsi e del marketplace e quindi sono sempre alla ricerca di varie informazioni. Allora vedo questo canale e vedo Jessica che trasmette da, sembra una camera, l'ufficio di casa tua insomma, comunque semplice ma molto ben strutturato e vedo dei numeri da paura. Tanta gente che ti segue, commenti super positivi, parli un linguaggio assolutamente molto potabile e quindi mi viene da dire però, una persona sicuramente che merita è da seguire. Allora raccontami un attimo un po' di background, un po' di tua storia personale, che cosa fai, immagino la docente però non è detto che sia così e come sei arrivata a questo mondo di YouTube, questa passione per la tecnologia. Allora io sono un'insegnante di scuola dell'infanzia e faccio laboratori in realtà con ragazzi e adulti anche sulle tecnologie. Io ho sempre avuto la passione per le tecnologie fin da piccola e quando ho scoperto, mi sono messa in gioco per capire se era possibile coniugare la mia passione per la tecnologia con la scuola, mi si è aperto veramente una nuova prospettiva e da una decina d'anni quindi insegno attraverso il mio canale YouTube, attraverso diversi corsi in presenza e online agli insegnanti come utilizzare le tecnologie educative e didattiche e insegno invece ai bambini e ai ragazzi come scoprire la robotica, il coding e tanti altri aspetti della tecnologia creativa. Ecco tu sei un'insegnante tra virgolette normale o sei proprio una, come che la chiamano adesso tecnicamente, un'animatrice digitale? Sono anche animatrice digitale, sono un'insegnante di sostegno della scuola dell'infanzia. Ho capito. Mi piace molto anche l'aspetto inclusivo delle tecnologie e cerco di approfondire e di divulgare anche questi aspetti oltre alle tecnologie creative anche quelle inclusive. Ecco, come mai la scelta di YouTube come canale? Allora, in realtà all'inizio un po' per caso perché durante uno di questi laboratori sulla programmazione che facevo all'interno di una scuola primaria abbiamo avuto la necessità di spiegare ai bambini e ai ragazzi come documentare il loro percorso attraverso degli strumenti digitali e quindi ho fatto un paio di tutorial proprio per questi bambini e per questi ragazzi della primaria che seguivano il mio progetto. Poi sono rimasti online, quindi sono rimasti su YouTube. A me piaceva fare tutorial, quindi qualcosina che trovavo poi lo diffondevo, anche lo condividevo attraverso il mio canale YouTube. E piano piano, visto che tanti insegnanti andavano a vedere il tutorial per poi applicare in classe anche le cose che spiegavo, quindi ci ho preso un po' la mano e ho continuato. Ormai sono otto anni che ho il canale YouTube e continuo costantemente ad aggiornarlo con nuovi video. Quanto tempo gli dedichi al giorno per creare nuovi contenuti e come funziona la creazione di un contenuto? Perché in tanti, vedo anche qua da noi, hanno l'idea, poi dall'idea alla realizzazione pratica ne passa parecchio. Hanno magari tante idee, poi dicono, ah ma no, questo non riesco a farlo, questo è troppo difficile, sì ma non sono bravo con il video, sì ma non riesco a fare le slide. Cioè tu come ti sei approcciata e che metodo usi adesso? Allora, io do sempre l'importanza al contenuto innanzitutto, quindi cerco di pensare a contenuti che possano essere utili e soprattutto innovativi, non scontati, che possano aiutare appunto gli insegnanti o in generale chi guarda i miei video. Quindi il lavoro di ricerca dei contenuti è costante durante tutta la settimana perché un po' ovviamente mi aggiorno e poi in base alle cose nuove che scopro penso anche se siano informazioni utili da condividere. Quindi rispetto al contenuto, come ti dicevo, è un lavoro costante. Io poi dedico due giornate in modo specifico alla creazione dei video. Secondo me è importantissima l'organizzazione, quindi ho due giornate fisse alla settimana, anche perché pubblico due video a settimana adesso, in cui registro la parte magari in presenza dove si vede la mia persona e poi la parte anche di screen, quindi registro anche lo schermo e poi faccio tutto il montaggio. Solitamente questa cosa la faccio per due volte alla settimana, quindi ho tutta la mattinata dedicata alla creazione e al montaggio dei video. Solitamente il giorno prima della pubblicazione. Poi non è... Ah, proprio... Anche tu ti tiri all'ultimo, non lavori troppo in anticipo, diciamo. Eh, allora sì, io praticamente ho un video di bonus, quindi al, diciamo così, al mercoledì registro e preparo quello del lunedì successivo. Poi alla domenica mi organizzo per registrare e sistemare tutto per il video del giovedì successivo. Però è sempre precedente al giorno in cui poi esce un video nuovo. Perfetto, perfetto. Ecco, che strumenti utilizzi per fare tutto questo? Sia la registrazione video che la parte dello screencast, diciamo. Allora, la registrazione video, vado ancora con il mio cellulare, in realtà. Sì? Mi vergogno moltissimo a dirlo perché so che i bravi videomaker probabilmente avranno i brividi, però ho acquistato anche in previsione di questo un cellulare, insomma, uno smartphone con una buona lente che mi permette di fare anche dei bei video. Dovrei sistemare un po' l'audio, in realtà, quindi è una cosa che devo fare per migliorare. E tu registri senza microfono, giusto? Registi con l'audio dello smartphone. Sì, esatto, esatto. Invece, per quanto riguarda lo screen recording, utilizzo Screencast-O-Matic. Sì. che mi piace moltissimo e in questo caso invece utilizzo il microfono che ha un Blue Yeti solo per lo screencast. E poi per fare il montaggio cosa usi? Premiere o altre? Adobe Premiere, sì. Premiere, perfetto, perfetto. E lato software per lo smartphone? Utilizzi l'app tradizionale? Adesso non so se hai un Samsung o che altro. Ho un Huawei. Ok, quindi usi il tool integrato oppure ti sei presa un programma esterno che magari ha qualche controllo in più? No, quello integrato. Quello integrato, ok. Quindi il messaggio perché ci sta ascoltando, sei riuscito a fare dei numeri da paura, nonostante forse la cosa più incasinata della tua tecnologia è Premiere, che anche ha un costo un po' più alto. Per il resto il cellulare ce l'abbiamo tutti. Screencast-O-Matic costa 15-18 dollari all'anno, quindi è praticamente regalato. Lo Yeti sì, adesso costa 100 euro, 120 euro, però credo che anche con un microfono più sgrauso insomma avresti fatto lo stesso dei numeri da paura. Consiglio mio per te, se vuoi registrare da smartphone, prenditi magari un lavalier da 30 euro che l'attacchi e quindi ti porta dentro un audio direttamente più pulito con meno problemi di riverbero insomma. Perfetto, me lo segno subito. Potresti farlo così. Oppure un'altra opzione, perché ci sono, ad esempio utilizzo il Boia che ha un cavo di tipo di 3 metri e quindi è molto lungo, quindi anche se metti distante il cellulare non hai problemi. Se invece avessi problemi perché lo prendi uno che è il filo più corto, potresti poi registrarlo con un vecchio cellulare in tasca e poi dopo fai il mixaggio tra le due tracce. Giusto. Per te non potrebbe essere un problema. Ecco, tu mi hai detto che sei un'appassionata e quindi lo fai da otto anni. Sì. Ma hai imparato da qualcuno? Hai seguito dei corsi? Sei totalmente autodidatta? Allora, rispetto alla creazione dei video, ho imparato da sola. Quindi nel tempo spero di essermi migliorata in questi otto anni. Mi ricordo ancora i primi video quando li facevo al buio praticamente perché avevo anche vergogna di farmi vedere proprio. Quindi se non altro adesso questa cosa l'ho superata. Guarda, hai toccato un punto che secondo me è più che importante. Cioè, magari alcuni non si vergognano e dovrebbero forse vergognarsi di mostrarsi in pubblico. Ma ci sono tanti bravi che invece hanno proprio paura di fare dei video su Facebook, fare soprattutto dei video tutorial, insomma, su YouTube, perché poi magari vedono altri che sembrano più spigliati, vedono a Montemagno che comunque hanno un set cinematografico dietro e insomma un po' il complesso di Pollicino ti viene in questo caso, no? Allora, tu che sei partita da zero e io mi ricordo in un corso ero andato a prendere delle vecchie screenshot di un primo Montemagno, di un primo Frank Merenda addirittura, dove la qualità video era terrificante, ma proprio brutta l'illuminazione, sembravano fossero usciti da un interrogatorio della CIA entrambi, no? Però mi dico, nonostante tutto sono arrivati dove sono arrivati, no? Al di là dei contenuti e tutto il resto. Allora, tu che suggerimento, che consiglio daresti, come hai superato tu questa impasse iniziale dell'è brutto, è buio, chissà cosa ne pensano gli altri? Allora, io l'ho superata facendo intanto dei contenuti che potevano interessare e quindi ho avuto un feedback immediato anche attraverso i commenti e attraverso le impressioni di chi mi seguiva, quindi quello senz'altro dà una grande spinta. E poi pensando sempre di migliorarmi, quindi va bene, io parto lo stesso, non è perfetto al 100%, magari lo è al 70%, però faccio in modo che l'anno prossimo questa perfezione sia arrivata all'80% e quindi vedendo pian piano i miglioramenti è chiaro che ti viene ancora più voglia di fare video. Certo, qualcuno su questo oppure magari sono i commenti stessi che ti dicono qualcosa al di là degli hater che magari ogni tanto possono saltare fuori? No, ecco, la mia commenta. Oppure se tu ti guardi e dici, no, no, ho visto il mio, poi ho visto quelli di Masterclass, oppure ho visto le intro di Corsi.it, cerco di copiare il buono, insomma. Sì, sì, certo, è chiaro che si prende spunto anche se vedo delle cose che mi piacciono, provo a vedere se le posso personalizzare e non copiare, ovviamente, però possono essere inserite. La cosa importante è essere sempre autentici, secondo me, in ogni caso, guardando i video. Quindi si può prendere spunto, ma cercare sempre di portarlo all'interno del proprio mondo, perché altrimenti c'è qualcosa che stona e questo salta all'occhio sempre. Ecco, tu, appunto, lavorando su YouTube, hai sicuramente dei contenuti molto freschi, molto specifici anche, mi viene da dire, e quindi ti sei ritagliata questa bella nicchia, nonostante una concorrenza mostruosa su YouTube, perché effettivamente non solo in Italia, ma se la guardiamo in ottica mondiale, c'è veramente il mondo. E anch'io, per esempio, sono appassionato di YouTube mentre odio Facebook. La domanda che mi faccio è, ma per farti strada su YouTube, in mezzo a tutta questa concorrenza, al di là dei buoni contenuti, che secondo me la fanno poi da padrone, hai fatto anche del lavoro di SEO, di posizionamento, dare dei nomi particolari ai corsi, ti sei studiata le keyword, oppure, io so che questo è interessante, penso che se è buono, il titolo lo faccio buono, e poi saranno i contenuti a farla da padrone, insomma. Allora, rispetto alla SEO, sto studiando proprio in questo momento, perché senz'altro è uno di quei temi e di quelle aree in cui posso migliorare. Quindi sto studiando proprio adesso rispetto a quello. Quello che faccio è ascoltare molto le persone che mi seguono, sia su YouTube attraverso i commenti, sia anche all'interno delle nostre community di Facebook. E poi io sono un po' facilitata, nel senso che faccio parte dello stesso ambiente della mia nicchia. E quindi so anche qual è il linguaggio che usa chi mi segue. E quindi cerco di utilizzarlo anche all'interno dei titoli, della descrizione e dei tag dei video. Quindi questo penso che aiuti, anche sia nel posizionamento che nella comprensione del video e dell'oggetto del video per chi vuole scegliere poi di guardare un video anziché un altro. Ecco, la tua nicchia mi hai detto all'inizio che l'hai proprio scelta perché era una necessità fondamentalmente. Era nata dal desiderio di condividere delle informazioni con i tuoi ragazzi. Esatto. Ecco, adesso che oltre che i ragazzi parli soprattutto, penso, guardando agli insegnanti che poi a loro volta hanno bisogno di creare dei mini tutorial, dei video, che altro. Quali sono dal punto di vista digitale le sfide, i problemi, le necessità del mondo e degli insegnanti in Italia? In questo momento soprattutto la didattica a distanza e quindi capire come utilizzare gli strumenti tecnologici di cui abbiamo parlato fino adesso anche a distanza e soprattutto a distanza. Probabilmente nei prossimi mesi il bisogno più grande sarà capire come utilizzare questi strumenti a distanza ma anche in classe. Quindi abbiamo capito che sono utili perché li abbiamo usati quando ce n'era la necessità però continuiamo ad utilizzarli perché hanno un valore aggiunto anche se possiamo essere nella stessa classe e nella stessa aula. Questo secondo me è importantissimo. Quindi al di là del tutorial e dell'aspetto tecnico far capire anche quali sono le strategie di utilizzo. Quali strumenti secondo te in particolare potrebbero essere riutilizzati in classe senza problemi dando un valore aggiunto importante? In realtà tutti gli strumenti di cui abbiamo parlato adesso quindi dagli editor di testo la creazione di presentazioni creazione di moduli soprattutto in un'ottica di utilizzo attivo da parte degli studenti quindi è necessario che gli insegnanti capiscano come far utilizzare questi strumenti anche agli studenti quindi non solo utilizzarli per la produzione di materiali e di risorse per le lezioni ma anche farli utilizzare gli studenti in modo attivo e creativo. In modo tale che anche loro imparino a loro volta e siano meno passivi. Assolutamente. Esatto. Ecco, come vedi anzi parliamo di questa cosa tu hai creato anche questo corso per gli insegnanti che gli insegna a loro volta insomma come utilizzare al meglio il canale di YouTube e gli strumenti di YouTube corretto? Esatto, esatto si chiama YouTube for Teachers e l'obiettivo è far capire agli insegnanti come utilizzare YouTube nella didattica quindi che YouTube può essere anche uno strumento didattico. Come è nata l'idea di questo corso e che riscontro stai ottenendo? L'idea è nata perché vedevo che molti insegnanti utilizzavano YouTube solo per la visualizzazione di video o la ricerca di video importanti o interessanti da utilizzare nella didattica però conoscendo già da tanti anni YouTube sapevo che si poteva utilizzare in altri modi e che io in prima persona l'avevo utilizzato all'interno delle classi e dei laboratori in un modo molto molto efficace e significativo per gli studenti e quindi mi è venuta voglia proprio di condividere queste cose che avevo imparato e questo metodo che avevo messo a punto durante gli anni e quindi ho creato questo corso e sta andando molto bene soprattutto perché vedo che gli insegnanti che entrano all'interno del corso e che fruiscono dei contenuti mi dicono che hanno scoperto cose che non avrebbero mai immaginato di YouTube e quindi per me l'obiettivo è raggiunto è assolutamente centrato certo certo e per la creazione del corso al di là degli strumenti perché forse è su Teachable se non mi ricordo male esatto ok anche lì vabbè immagino che dal punto di vista tecnico tu non abbia nessun problema cioè guardi Teachable ti guardi lo strumento lo impari in due secondi dall'altro guardando anche per l'esperienza insomma che capita a noi quando riceviamo corsi che ci vengono proposti notiamo che a volte da una parte ci può essere una buona preparazione tecnica dal punto di vista del docente ma nella creazione del corso ci si perde un po' cioè la struttura del corso al di là della qualità che ti dico non sempre è eccelsa cioè magari le slide sono fatte in un certo modo il video è tutto molto migliorabile diciamolo però dal punto di vista proprio dei contenuti e della struttura del fatto che comunque debbano esserci un tot numero di lezioni che debba esserci un filo logico che oltre che le lezioni deve esserci anche qualcosa che permetta tipo esercizi quiz in modalità di interazione un po' più spinte che permettono alle persone insomma di capirne di più senza avere qualcosa di passivo che poi alla fine non serve a molto ecco in questo caso tu hai fatto di nuovo tesoro sempre della tua esperienza di insegnante di qualcosa che hai visto online e cercato di copiarlo oppure lato proprio creazione di video corsi e non semplici singoli tutorial ti sei appoggiata a qualcuno e hai guardato qualcosa hai guardato dei libri per esempio ma per quanto riguarda la struttura dei corsi io mi sono affidata a quello che avevo scoperto e avevo creato per i miei corsi in presenza con i ragazzi quindi io trattavo già YouTube con i ragazzi e ho sperimentato assieme a loro poi essendo un insegnante per me è quasi più facile la parte in realtà di strutturazione dei contenuti e di sistemazione degli argomenti e delle risorse quindi quello per me era una cosa quasi spontanea perché ho cercato di dare una linearità a tutto quello che avevo preparato di creare delle zone di apprendimento diciamo quindi sono partite dalle cose più semplici per arrivare a quelle un pochino più complesse e più creative quindi sono partite dalla fruizione per arrivare alla creazione dei video parlando di YouTube e per quanto riguarda invece la struttura generale e soprattutto la parte di coinvolgimento del pubblico ho seguito un corso che mi ha aiutato a lavorare su questi aspetti soprattutto dal punto di vista della relazione iniziale con il pubblico del far conoscere il mio corso ok vuoi citarlo così è il corso di italodigitali quindi di Alice e Michael ah ok del quale parlavo ieri proprio ieri con una con una persona e fa guarda questi due ragazzi lavorano molto bene quindi saranno magari anche loro da intervistare prima o poi molto è la metodo step academy cosa scusami si chiama metodo step academy esatto 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 ecco gli insegnanti dal punto di vista tecnico diciamo che riesci a supportarli alla grande insomma con il lavoro che fai ma hanno poi l'esigenza magari a causa cioè a seguito di loro passioni di loro interessi particolari per esempio di creare dei corsi su internet dei corsi online oppure diciamo che tu sei più una mosca bianca in questo senso e loro tendenzialmente preferiscono stare nel loro brodo e fare bene il lavoro in classe senza avere velleità particolare di creare un corso che ne so su Dante un corso su come fare la storia o un corso che prenda spunto da passioni che sono extrascolastiche ma adesso io vedo un sacco di insegnanti che stanno cominciando a creare dei video tutorial a loro volta e quindi cominciano a mettersi in gioco e a condividere anche le loro conoscenze le loro esperienze al di là della classe fisica e penso non solo per i propri studenti ma proprio per la voglia di far scoprire le cose che sanno anche ad altre persone ad allargare un po' il loro pubblico quindi secondo me verrà voglia anche a loro di fare qualche corso perché chiaramente è comodo YouTube perché permette di divulgare però dopo fare formazione è un'altra cosa ecco l'ultimo step è sempre spesso collegato al discorso della monetizzazione cioè ci sono magari tante persone su YouTube ma anche diciamo influencer all'inizio o gente che pubblica tanti contenuti che però ha problemi di monetizzazione perché magari non ha dietro una voglia di farci soldi non sa come fare soldi non ha un modello di business ben predefinito oppure magari nel caso degli insegnanti puoi pensare ma adesso vado in conflitto essendo io un dipendente pubblico se mi metto a fare anche un corso per i fatti miei magari qualcuno viene un pochino a rompere le scatole ecco tu come stai gestendo questo aspetto abbastanza delicato soprattutto per un italiano? certo rispetto soprattutto agli insegnanti è necessario mettere tutto in regola ovviamente prima perché ci sono alcune richieste da fare al dirigente visto che poi abbiamo ecco delle entrate extra rispetto a quelle del nostro lavoro da dipendenti pubblici io lo do per scontato in realtà non è detto che un insegnante sia un dipendente pubblico però sì ecco il lavoro dell'insegnante è sempre un po' particolare quindi dobbiamo stare un attimo attenti e ovviamente prima informarci quindi dobbiamo aprire una partita IVA in questo caso per poi fare questa vendita anche del tuo corso esatto ok io ho richiesto prima il part time e poi ho aperto la partita IVA quindi con il part time ho la possibilità di aprirla perfetto sì esatto ecco adesso che sei ormai un influencer insomma nel mondo YouTube o quantomeno una YouTuber mettiamola così sì non sei ancora Jessica Ferragni però lo diventerai presto con il tasto di crescita che hai in questi giorni immagino siano arrivate anche tante richieste richieste di partnership magari YouTube stesso ha fatto delle proposte tante altre persone insomma cominciano a vedere che i numeri che girano sono sono interessanti e quindi giustamente si muovono nell'interesse del loro pubblico alla fine che poi se soddisfi il pubblico alla fine il business va bene i numeri i numeri tornano se ti è capitato qualcosa del genere come lo stai come lo stai gestendo perché è un aspetto che magari all'inizio non ci pensi mai penso di fare il mio corso il mio video bene poi penso di fare il mio corso bene il mio canale bene e poi quando arrivano queste cose arrivano un po' come un fulmine accessere magari non è che sei pronto a gestirle tu come come hai fatto certo allora in realtà a me arrivavano anche prima delle proposte di questo tipo e sono contenta perché significa che chi me le ha fatte aveva già un occhio critico rispetto a quello che stavo facendo e quindi sono contenta che siano arrivate anche prima e non solo in questo momento e soprattutto rispetto magari a il test di prodotti tecnologici che possono interessare gli insegnanti io guarda rispetto alle collaborazioni probabilmente non è molto commerciale però a me piace avere anche un rapporto umano con le persone con cui vado a collaborare quindi mi piace capire se le persone che mi chiedono di collaborare con loro sono realmente interessate alla mia opinione e quindi al valore aggiunto che posso dare al loro prodotto parlandone e mettendo insieme la mia esperienza e se trovo questo feeling e questa possibilità di relazione e ovviamente se il prodotto mi interessa e penso che sia valido ma questo è alla base in generale della valutazione e allora collaboro altrimenti difficilmente te lo dico proprio sinceramente no no beh certo bisogna essere d'accordo entrambe le parti insomma su un prodotto di questo tipo di una collaborazione di questo tipo e i progetti di Jessica per il futuro cosa ci bolle in pentola allora c'è sempre il canale ovviamente poi ho già aperto il secondo corso che adesso sto riaggiornando che è un corso dedicato invece alla creazione di app per la didattica sempre dedicato agli insegnanti che sono il mio primo amore in realtà perché la creazione di app e in generale il coding sono sì appunto il mio primo amore la prima area di tecnologica che ho approfondito e quindi ho trasformato questa esperienza anche in un corso che sto riaggiornando adesso e penso di aprirne un terzo entro fine anno però non dico ancora l'argomento perché è tutto un po' in forse se posso darti un'altra anticipazione visto che parallelamente alla tecnologia ho approfondito anche argomenti che riguardano più la crescita personale sto cercando di mettere insieme anche queste due cose quindi ovviamente c'è la necessità di conoscere le tecnologie ma c'è anche la necessità di diminuire l'ansia nell'utilizzo delle tecnologie soprattutto a scuola e quindi sto cercando anche modalità più relazionali e più umane per affrontare l'insegnamento e l'insegnamento delle tecnologie è una cosa un po' strana però visto che mi piace mettere insieme le mie passioni sto cercando un modo ecco mi sembra una bella sfida decisamente interessante insomma ma sono sicuro che ne verrai fuori a testa alta le cose semplici e normali non ci piacciono ecco a proposito di sfide quanto è sfidante decidere di rimanere su youtube invece che andare su facebook instagram snapchat tiktok e tutti gli altri social possibili immaginabili è tanto però a me piace così tanto che io rimango lì quindi credo che ci sia la possibilità di continuare a crescere anche all'interno di youtube è chiaro che parallelamente è necessario magari utilizzare anche altri mezzi io ad esempio utilizzo facebook perché so che il mio pubblico è lì quindi utilizzo anche facebook e riesco a avere attraverso facebook una relazione più immediata però per quanto riguarda la divulgazione io rimango su youtube anche perché secondo me a parità comunque di mezzo quindi rispetto alla creazione dei video è vero che possono essere inseriti anche in altre piattaforme ma il linguaggio deve essere diverso e quindi per me sarebbe uno sforzo ulteriore cercare un linguaggio consono anche alle altre piattaforme quindi per ora resto fedele a youtube anche perché per chi non lo sa ma tu che sicuramente sei del mestiere in qualche modo noi qui abbiamo dei metri di paragone dei parametri per cui tu che fai video e poi dopo fai gli screencast e devi farci il montaggio è tanta roba la fase di montaggio rispetto alla fase di registrazione poi c'è anche tutta la parte prima di ricerca delle informazioni di trovare fare tutti i test quindi lavoro sporco che uno dice io ho visto tre minuti di filmino però dietro tre minuti ci possono stare anche cinque sei sette otto ore di lavoro sì 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 infatti la parte di montaggio ogni tanto quando mi trovo davanti a premiere dico no questa cosa la faccio fare a qualcun altro per me la parte di montaggio è quella che piace meno so che a tanti creativi tanti creatori di contenuti piace tanto la parte del montaggio a me non moltissimo e poi come avrai sentito sono logorroica quindi devo sempre tagliare due terzi del registrato di solito infatti una cosa che stavamo notando proprio noi negli ultimi giorni registrando negli ultimi mesi in realtà stiamo registrando dei corsi aziendali comunque è che sono proprio venuto io a cercare su youtube vari youtuber al di là del contenuto che a volte non mi interessava neanche era proprio per cercare la forma non soltanto video ma proprio le tempistiche di youtube il timing di youtube e quindi sono andato per esempio anche a guardare il canale del me contro te per intenderci conoscerai sicuramente ma perché al di là del fatto che non me ne freghi niente di quello che fanno che dicono in realtà mi interessa il come e quindi questa specie di pseudo montaggio assurdo con degli stacchi certo loro gridano troppo ma perché hanno un target che è abituato in quel modo lì e quindi sono tutte delle modalità da imparare portare all'interno perché effettivamente da un video di 15 minuti a volte 7-8 minuti di questo video sono veramente di troppo dal togliere le pause che sono troppo lunghe o quant'altro è un lavoro un po' di cesello devo dire che a volte forse il gioco non vale la candela però mentre è difficile quando c'è le brave persone su youtube addormentarsi spesso anche in passato ho visto corsi che magari nei contenuti potevano anche starci ma erano troppo prolissi erano troppo pallosi c'era gente dopo un po' si rompe i maroni fondamentalmente e quindi riuscire a portare la freschezza la dinamicità di youtube all'interno di un corso online secondo me chiaro ti porta via ti porta via parecchio tempo in fase di realizzazione di montaggio però dai un servizio diverso proprio a chi c'è dall'altra parte anche in questione di rispetto del suo tempo e della sua vita insomma certo per i corsi magari youtube è più intrattenimento e quindi puoi lasciarti magari andare anche un po' più a qualche commento extra però per i corsi secondo me bisogna andare dritti al punto e spiegare bene senza dar niente per scontato però non mettere nemmeno l'ottanta per cento di informazioni superflue altrimenti davvero diventa soltanto così un parlarsi addosso e non andare dritti al contenuto esatto e torniamo ancora al contenuto che è la cosa principale effettivamente dalla quale sei sei partita tu quindi suggerimento finale direi puntate gente ai contenuti perché c'è bisogno comunque di buoni contenuti anche di buona forma però alla forma ci si arriva al contenuto ci vuole volontà forse di ricerca volontà di mettersi in gioco volontà di trovare qualcosa diverso rispetto rispetto al solito insomma ecco Jessica io ti ringrazio moltissimo sei stata davvero molto preziosa e dato delle informazioni utili sia chi vuole vedere corsi che chi vuole andare sul mondo di youtube e realizzare video tutorial e quant'altro un'ultima informazione per chi volesse approfondire e cercarti dove ti trova lato youtube e lato facebook o lato sito si mi trovate sempre come Jessica Redeghieri quindi ha una fantasia immensa ho messo sempre il mio nome e cognome ovunque quindi JessicaRedeghieri.it il mio sito e su youtube Jessica Redeghieri la stessa cosa su facebook perfetto io Jessica ti ringrazio ti auguro veramente un grossissimo in bocca al lupo con il futuro post covid con tutta la parte di digitalizzazione anzi di di progresso della digitalizzazione all'interno delle scuole e mi raccomando tutti quelli che hanno ascoltato questa questa puntata questa intervista concentratevi fate come Jessica le idee erano abbastanza chiare fin dall'inizio però fino a un certo punto quindi ha cominciato con una cosa piccola ha cominciato con fare dei piccoli video e poi dai video è diventato sempre di più sempre di più ha migliorato costantemente giorno dopo giorno e quindi senza farsi prendere troppo dall'ansia perché come dico sempre anche se uno è molto monotono tuttavia se il contenuto che hai è un contenuto figo la gente ti guarda e ti ascolta alla fine se anche hai una bottiglia d'acqua sporca lurida e malodorante in mezzo al deserto probabilmente la gente la apre la stappe se la beve lo stesso quindi dobbiamo cercare un po' di fare in modo tutti di essere come quell'acqua anche se a volte guardandoci intorno ci sono delle acque un pochino più luccicanti e ci viene un po' di ansia insomma su questa cosa però fate come Jessica non fatevi fregare iniziate subito cominciate col cellulare lei dopo otto anni sta ancora usando il cellulare e va benissimo così mi verrebbe da dire ma che cacchio te lo fa di cambiare per certi versi visto che vanno così bene le cose quindi non preoccupatevi pensate di meno agite di più e ci vediamo alla prossima puntata hai appena ascoltato Crea il tuo corso per ricevere ogni giorno nuove strategie strumenti e suggerimenti per creare e vendere il tuo corso online iscriviti al canale telegram chiocciola Crea il tuo corso e partecipa soprattutto ai live su facebook alla pagina facebook Crea il tuo corso